Siamo con Anna Maria Chicca Mencoboni al campo scuola di Pesero, luogo in cui Chicca ha costruito tanti dei suoi successi di questi anni, successi da paratleta che però non sarebbero stati probabilmente possibili senza il ruolo dell'atleta guida, un ruolo fondamentale che però stenta ad essere riconosciuto nonostante anche il tanto impegno fuori dal campo che Chicca Mencoboni ci ha messo in tal senso. Il ruolo della guida è fondamentale perché è come se fosse la protesi per un amputato, per un non vedente, un ipovedente grave che ha necessità dell'atleta guida, se non c'è sta a casa, quindi quel famoso diritto allo sport che deve essere effettivo per tutti in realtà non lo diventa. A questo proposito nel 2019 iniziai a lavorare con il Ministero della Disabilità proprio per far riconoscere il ruolo dell'atleta guida in modo tale che non fosse più solo volontariato ma diventasse un ruolo riconosciuto. Avevamo anche fatto dei grandi progressi, eravamo arrivati a un protocollo d'intesa anche se in via semplicemente informale e purtroppo l'instabilità politica nel nostro paese comporta che poi ci sono nuovi interlocutori ed è difficile quindi riuscire a ritornare a dialogare. Siamo riusciti a farlo grazie all'intervento, ci tengo a sottolinearlo, del consigliere Micaela Vitri che mi ha dato la possibilità di partecipare a un consiglio regionale. Il consigliere Biancani ha raccolto subito la sfida, insieme abbiamo lavorato, io ho fornito tutte le indicazioni perché le linee guida le ho scritte io di mio pugno insieme ad una mia compagna di squadra e siamo riusciti ad introdurre in una legge del 92, una legge dello sport, un emendamento che finalmente per la prima volta prende in considerazione proprio il ruolo dell'atleta guida che è diverso dall'accompagnatore. La cosa preoccupante è che quegli enti che dovrebbero tutelare gli atleti in tutte le forme di disabilità, compresa la disabilità dei non vedenti, che purtroppo in Italia viene considerata di serie B, costa un po' di più, parliamoci chiaro perché la guida costa un po' di più. Purtroppo invece di essere grati del lavoro che io personalmente o altri fanno dietro le quinte e richiede tanto lavoro, tanta attenzione, purtroppo non ci forniscono il supporto necessario e quindi tutto si ferma. E a mio avviso la cosa fondamentale, io credo molto nel lavoro di gruppo, nel lavoro di squadra, in un team, un tavolo di lavoro, dove ognuno di noi possa portare le proprie esperienze, le proprie capacità e la propria professionalità, perché credo che solo così si possa arrivare ad un risultato concreto, da poter poi estendere a tutte le altre regioni, perché abbiamo avuto richiesta da altre regioni che si stanno muovendo e soprattutto a livello nazionale spero di poter prendere di nuovo i rapporti.